buongiorno buongiorno bentrovati a questa rubrica mattutina firmata fabiabrosi punto it forse coraggio è oggi è mercoledì ed è quello che viene definito può essere definito come un giorno collinetta perché perché c'è il lunedì quando ci si avvicina al lavoro c'è il martedì che si è ancora in salita si è ancora vicini al weekend passato poi c'è il mercoledì che è un po' una via di mezzo un giorno in cui la parabola ascendente arriva al suo apice e poi si scende piano piano verso il prossimo weekend quindi oggi è mercoledì stringete i denti dai siamo arrivati già a mercoledì di cosa parliamo quest'oggi oggi parliamo di james cameron e della sua grande passione per le immersioni in realtà no non parliamo di james cameron iniziamo parlando di james cameron e finiremo parlando di video in 4k o meglio video in 8k per esagerare ci arriviamo perché parliamo di james cameron perché lui nel 96 quando preparava titanic ebbe la bella idea di prendere l'attrezzatura scendere a 4000 metri di profondità filmare il relitto e metterlo nel film ora nel 96 in quel periodo lì quando si preparava titanic dovete immaginare che non c'erano le tecnologie che abbiamo noi oggi no siamo abituati a vedere dei film al cinema ricchissimi di effetti speciali ricchissimi di computer grafica di scenari completamente inventati disegnati post prodotti ecco quando si preparò titanic tutta la tecnologia che abbiamo oggi era ancora agli albori ed era anche molto costosa tra l'altro e se è vero che titanic è stato in parte ricostruito in 3d in parte ricostruito fisicamente per le riprese le immagini che vediamo all'inizio del colossal appunto sono immagini invece reali perché james cameron ebbe voglia così di prendere la cinepresa e scendere a 4000 metri di profondità e firmare il relitto ok fin qui niente di strano quello che poi accadde che lui continuò con questa sua passione e nel 2012 decise di affrontare un'impresa ancora più importante andò addirittura quasi 11.000 metri di profondità non ricordo se 10.000 errotti o 11.000 rotti comunque quelle profondità di per raggiungere la famigerata fossa delle marianne ora immaginate che il titanic ha posato su un fondale marino ad una profondità di profondità di 4000 metri ecco calcolate che l'everest è alto 8476 metri più o meno di 488 800 circa 8.000 metri di altezza bene le fosse delle marianne sono profonde quasi 11.000 metri ed era un'impresa complicata che tra l'altro james cameron ha raccontato in un mini documentario di 20 minuti che tra l'altro trovate anche su youtube cercandolo credo che sia della national geographic e lui niente nel 2012 costruì perché non esisteva un battiscafo capace di raggiungere quelle profondità e scese in solitaria lui da solo in questo oblo in questa capsula perché era una capsula con no oblo un cavolo oblo non c'erano perché chiaramente le pressioni a quelle profondità sono talmente potenti che non credo che potesse essere saggio per un blocco di profondità comunque lui scese e fece delle riprese meravigliose del fondale raccolse dei campioni di terra e riportò tutto in superficie sano e salvo ecco dicevo perché parliamo di riprese in 4 e in 8 k perché qualche settimana fa è uscita la notizia in molti giornali su molti giornali che una società di spedizioni di immersioni o comunque di ricerca non ricordo esattamente quali fossero le diciamo gli scopi dichiarati da questa società avessero raggiunto i fondali del su cui è posato ancora il titanic a 4.000 metri di profondità e avesse avessero realizzato delle riprese addirittura in 8 k ora questa è una notizia che è molto girata se avete instagram avete sicuramente visto in ma queste immagini fantastiche del titanic annunciare come immagini meravigliose in 8 k del titanic qual è la brutta notizia è che se avete visto queste immagini su un quotidiano qualunque nel mondo credo o su instagram o su facebook difficilmente quelle immagini chiaramente erano in 8 k 8 k è una risoluzione per intenderci non il doppio dell'8 k ma ancora di più ok quindi per poter riprodurre un'immagine del genere non basta un player qualsiasi servono diciamo delle tecnologie differenti youtube mette a disposizione la possibilità di visualizzare i video in 8 k quindi caricare e visualizzare video in 8 k e tra l'altro nei commenti nella descrizione di questo video trovate il link al video originale ecco la notizia semplicemente era che sono state girate per la prima volta delle immagini a risoluzioni così alte del titanic lo dico perché molti magari hanno commentato questi video dicendo a bellissime immagini si le immagini sono effettivamente belle però ecco attenzione quando vi dicono immagini in 20k 50k si ok bisogna vedere come chiaramente le riproducete la notizia di qualche settimana fa sicuramente immagini molto belle quindi se vi fa piacere date un'occhiata insomma al video trovate il link nei commenti e in descrizione e questa era la notizia la notizia di oggi tra l'altro c'è chi scende a profondità elevatissime c'è chi invece sale ad altezze impossibili e presto raggiungeremo nuovamente la luna con una nuova missione della nasa ma questo è un altro argomento di cui parleremo probabilmente nelle prossime settimane per adesso vi ringrazio se vi fa piacere un clic sul bottone registrati a questo canale youtube per voi probabilmente non è niente veramente tantissimo perché mi aiuta a far crescere questo canale youtube condividete questo video commentate voglio sapere quello che pensate nel bene o nel male purché nel rispetto di tutti appunto commentate mettete un like e cercatemi anche su instagram il mio account è ambrosi fabio anche lì pubblicherò notizie aggiornamenti e quant'altro grazie ancora a domattina mi raccomando buona giornata siamo arrivati a metà forza